Un confronto tra le varie professionalità che operano nelle marche per realizzare una sinergia comune in grado di promuovere anche tramite il turismo una regione che aspetta il rilancio. Ci dice tutto. Simona Carbonari. Un tavolo di discussione che unisce competenze e professionalità pubbliche e private per arrivare a sottoscrivere un patto per lo sviluppo sostenibile del territorio e una ripresa economica. La parola d'ordine è sinergia. Basti pensare, è stato detto, all'importanza della collaborazione tra mare e dentro terra nella ricostruzione post-sisma ad un turismo che va ripensato non solo di mare ma come esperienza che risulti plurale con le varie vocazioni coinvolte. Ad organizzare l'iniziativa la FIAIP, la Federazione Italiana Agenti Immobiliari. Crediamo che lo sviluppo economico dal punto di vista dell'edilizia possa portare anche uno sviluppo turistico che sono due elementi tangenti tra di loro. Non soltanto uno sviluppo turistico dal punto di vista nord-sud dalla parte della costa della regione ma anche uno sviluppo turistico che possa utilizzare da est verso ovest, cioè dal mare verso le montagne, lo sviluppo per quanto riguarda del turismo in maniera trasversale. Nel corso dell'incontro è prevalsa la convinzione che solo con la coesione degli istinti migliori si possa creare il volano capace di apportare nuova linfa ad una regione che deve riprendersi.